Vieni! Vai, Tani! Vieni! 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 Via! Vieni! 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 Quello grossino! Vieni giuro! Non tira al Flavio! Tira al Flavio! Non lo so! Non lo so! Tani! Fai un passo indietro perchè! Un passo indietro! Ma guarda che ci l'avete da un po' di una volta! No perché ci fai così! bene atleti siete pronti vi vedo sì arbitri Ale Chiara San Cosma Taran fune in mano pronti a 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